Quando c'è Dio, Dio collega il tempo e collega i Suoi figli nel tempo, dal 1575 ai primi del novecento, un ponte invisibile tra i consacrati. Oggi noi celebriamo questa memoria della presentazione del Signore. In Simeone e Anna che visitano Gesù, che sono illuminati nel cuore e vedono in quel bambino il figlio di Dio, noi vogliamo contemplare tutti i consacrati, o per il battesimo, quindi tutti quanti noi, perché tutti siamo consacrati per il battesimo, oppure per i voti professati, come noi religiosi e religiose, che nel più piccolo vedono il figlio di Dio e lo proclamano. Camillo vedeva negli ammalati il figlio di Dio e lo proclamava. Padre Pio vedeva nei penitenti e nei più anche peccatori un figlio di Dio al confessionale da recuperare. Padre Pio, Simeone e Anna, sono immagini di quei Simeone e Anna che hanno visto in un bambino, entrato in un tempio per una celebrazione liturgica, hanno visto bene, hanno visto il figlio di Dio, che possiamo ricevere la medesima luce nel profondo dei nostri cuori. Siano dato Gesù Cristo.